Ma è arrivato qualcuno al casale? Forse sono quello di bell'estate. Ma che fai io? Com'è che ti chiami? Giulio. Facciamo un gioco. Uno. Due. Vieni. Allora Lia, sei qui da sola? Certo che starsene qua da soli non è il massimo. È tutto uguale. Gli alberi, i campi. Gli alberi, i campi. C'è vero? Io ti voglio aiutare. Eh? Sono aperto la finestra. Esci, vai via. Esci! Esci! Via! No fai se mi ami. 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 Ou be via la finestra. Non fai se mi ami. E se mi ami. La necesario.